Si è svolta questa mattina in Commissione di Vigilanza l'audizione dei vertici della Saga, la società che si occupa della gestione dell'aeroporto di Pescara. Sentiamo il Presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo, e il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. È stato un riaffermare posizioni che già si conoscevano. L'aeroporto d'Abruzzo è un costo, ma è una necessità perché bisogna tenerlo. Quando viaggiamo su un bacino di utenza di solo un milione e mezzo di utenti e abbiamo poco più di 500 mila utenti, se riuscissimo ad avere un milione di utenti è chiaro che non ci sarebbe bisogno di questa integrazione, di questo intervento della Regione Abruzzo, ma d'altronde è un problema che non riguarda solo l'Abruzzo, riguarda Ancona, riguarda Bari, riguarda un po' tutti gli aeroporti. Sapete che tutte le compagnie aeree sono in fortissime difficoltà, però è chiaro che c'è la necessità di tenere un aeroporto. Ci sono dati, non solo statistici, ma dati affermati che grazie all'aeroporto noi incassiamo come pil regionale 120 milioni di euro che ci vengono trasferiti dai turisti stranieri. Questo sta a significare che abbiamo un ritorno. Dobbiamo chiaramente continuare a lavorare, ma soprattutto sono stati chiariti alcuni passaggi su cui alcuni commissari avevano dei dubbi. È stato certificato che negli ultimi tre anni questo nuovo CDA ha fatto un piano industriale dove ci sono stati completamente tagli seri sui costi superflui. Lo stesso Presidente, che è un professore universitario, ha un appannaggio come Presidente del Consiglio di Amministrazione di solo 20 mila euro lordi l'anno, gli altri membri del CDA solo di 5 mila euro, così come il solo Presidente del Collegio Sindacale prende 5 mila euro. Quindi tutto ciò che qualcuno immaginava di sperpero, così come interpretato, è stato certamente chiarito e credo che si va verso una soluzione positiva della problematica. Quello che noi ci tenevamo a chiarire è il fatto che innanzitutto non siamo contro l'aeroporto e siamo a favore dell'aeroporto che venga sviluppato, che venga implementato e soprattutto che vengano tutelati i lavoratori. La cosa che però teniamo a precisare è che troppo spesso la Regione agisce in uno stato di emergenza, nel senso che si arriva sempre di corsa a tappare dei buchi perché manca di programmazione e manca una visione complessiva di quello che deve essere lo sviluppo di questa Regione. Oggi alcuni dubbi sono stati fugati, altri sono rimasti. Abbiamo chiesto al Dottor Sorgi la certezza delle coperture, qualche dubbio è rimasto. Per quanto riguarda il Presidente Laureti ci ha fornito i chiarimenti che avevamo chiesto e con la promessa di farci avere nel più breve tempo possibile il piano industriale, noi siamo curiosi di vedere il piano industriale perché siamo curiosi di partecipare e di portare l'aeroporto d'Abruzzo da 500 mila passeggeri a un milione di passeggeri. Quello che noi vogliamo fare è soltanto capire, comprendere e in modo tale da far crescere la nostra Regione e da sviluppare il turismo che deve essere, secondo noi, la prima forma di investimento in questa Regione e non altre, come abbiamo visto negli ultimi giorni. Grazie.